Buongiorno e benvenuti a questa resegna stampa di oggi, giovedì, no, venerdì 17 novembre. Allora, quali sono le cose fondamentali sui giornali? Vi dico subito che i giornali oggi hanno poche robe interessanti, direi pochissime cose interessanti, tant'è che molti giornali oggi titolano su una non notizia, cioè quella che riguarda la dichiarazione del Papa, Papa Bergoglio, che ha detto no ad accanimento terapeutico, cioè l'uso sproporzionato di mezzi terapeutici che pur non dando beneficio alla cura o al salvataggio di un malato, vengono utilizzati per tenerlo in vita. Quindi il Papa ha detto no all'accanimento terapeutico. Tutti i giornali aprono, la Repubblica goda come una riccia, perché dice, un riccio, perché dice Repubblica ecco, avete visto, il Papa per il testamento biologico, che è un'altra cosa il testamento biologico, anche se capisco che le due cose possono essere confuse. E molto, secondo me, seriamente, alcuni giornali notano, tra cui il Foglio, che nel 1956, cioè 1956, due anni prima che l'Italia fu espulsa dai mondiali, va bene, nel 56, poi nel 58 non partecipò ai mondiali, esattamente in un periodo storico molto simile a quello attuale, fu più di odicesimo dire la stessa, identica cosa. Quindi sono anni che la Chiesa dice queste robe e lo disse in un convegno di anestesisti. Chiaro? Di anestesisti. Disse, ragazzi, attenzione, perché l'accanimento terapeutico non è una di quelle cose che la Chiesa vuole. Chiaro? Punto. Poi per il resto possiamo portarcelo da una parte o dall'altra. Se la settimana scorsa il Papa e il Santo Padre avesse parlato, non so, avesse detto, usiamo la testa, forse qualcuno avrebbe potuto titolare sui giornali, forza, il Papa sta con il clan Spada di Ostia a favore di Casa Pound. Si tratta di minchiate. Il Papa questa cosa qui, certo, se ha una sensibilità politica come ce l'ha Bergoglio, ci avrà un senso averla detta oggi, ma è anche vero che questa posizione non è così rivoluzionaria, tutt'altro. Non è purtroppo rivoluzionaria neanche la morte dell'Ottavo Nano. L'Ottavo Nano è la Carige, che è una banca morta. Sabato a Book City presenterò il libro di Carlotta Scozzeri proprio su questo. Ha scritto un libro su come muore una banca vecchia del 1480. C'è qualcuno che potrebbe dire era l'ora, visto i casini che ha combinato. Muore perché all'interno della banca si voleva fare un aumento di capitale per salvarla da 560 milioni, che non è una cifra in sé incredibile per il sistema bancario italiano, è praticamente un Leonardo venduto all'asta di Cristis, altra notizia di oggi, ma una delle famiglie privati che ci hanno messo un botto di soldi che si chiamano i Malacalza, ricchissimi perché hanno venuto le loro industrie e ci hanno un miliardo sul conto corrente, beh, non hanno voglia forse di bruciarselo tutto in banca Carige, dove entrarono nel 2015 pagando un'azione 1,7 euro. Adesso quell'azione gliela vendono a un centesimo, loro non ci stanno, non si riesce a capire bene perché questa è l'altra cosa fondamentale. Oggi i giornali spiegano tutte le conseguenze che ci potranno essere nel futuro se la banca non dovesse subire questo aumento di capitale. Ma nessuno che ti spieghi bene perché sta saltando. Nessuno! Ci facciamo in retroscena le pippe, ma perché? Guardate, i pezzi di oggi, quello del Corriere in particolare è incomprensibile, è un po' meglio forse di altri giornali, ma quello del Corriere è assolutamente incomprensibile. Perché i malacalza che hanno il 17% della banca e che poi fanno un comunicato dicendo che vogliono addirittura arrivare al 28% di questa banca ieri si sono astenuti? Qualcuno ci dice, qualche retroscena dice che stanno litigando i malacalza. Io ho un... senza sapere nulla, io penso che la famiglia malacalza che ci ha messo un sacco di soldi, 200 milioni e che oggi sono in parte polverizzati, vuole fare questo aumento di capitale solo se comanderà. Chiaro? Se uno ci mette i soldi non vuole che ci sia un cazzo di banchiere, un manager che si è fatto il giro delle sette chiese che comanda il posto suo. Questa è una mia impressione, diciamo, di sottofondo. Se poi sbaglio, ovviamente vi chiedo scusa. Ma l'ottava nana, quella che si può definire l'ottava nana, sta sicuramente saltando. Saltano anche le mogli e soprattutto le assunzioni dei numerosi camerieri che le mogli non potranno fare. Mi spiace molto per la comunità, diciamo, filippina e non solo, che lavora per la signora Lario, la moglie di Miriam Bertolini e la moglie di Silvio Berlusconi, perché il Tribunale le ha dato torto e le ha dato torto perché le ha detto che 1 milione e 400 mila Euro al mese non sono giustificati posto che la signora ha 300 milioni di Euro di patrimonio personale. Allora, questa mi sembra una cosa talmente normale che non verrebbe neanche la pena di discutere se non riguardasse la moglie di Berlusconi e Berlusconi, ma vi sembra normale che fino a ieri Berlusconi doveva pagare sua moglie 1,4 milioni di Euro al mese, anzi erano 3 quando non era divorziato, 4 quando non era divorziato, dopo che le aveva dato 300 milioni per chiudere il rapporto, diciamo, sentimentale. Io la trovo una cosa ignobile. Una cosa sono i figli che bisogna tutelare e una cosa è mantenere un livello di vita alla moglie che secondo me con 300 milioni di Euro, avendo la la moglie, non so, 50 anni, 60 secondo me, non è più 50, avendo quindi, attenendosi alle tabelle Istat, 20-25 anni di aspettativa di vita, ma gliele auguriamo anche 30 anni di aspettativa di vita, c'ha 10 milioni di Euro che si può sparare ogni anno. It's enough, non è che si è sposata una miliardare, si è sposata una ragazza senza una lira, se poi dopo c'ha per i prossimi 30 anni 10 milioni di Euro all'anno solo di patrimonio, come se non rendesse nulla, che lei può utilizzare, insomma, non ci viene da piangere. Sacro santa la sentenza della Corte d'Appello che nasce da una vecchia sentenza del caso Grilli, ex ministro del Tesoro, che vede la moglie sconfitta perché dice se hai soldi, e ovviamente non si parla della tutela del figlio, beh, insomma, cavatela della sola, non è che puoi pensare che tuo marito ti campi allo stesso tenore di vita per tutta la vita, io la trovo sacro santa. Minniti oggi fa una bella intervista a Cerasa sui social network al foglio, e qui dice una cosa giusta, ma anche una cosa molto sbagliata, dice che i social media sono allo specchio il deformante della società, e non esistono zone grigie, cioè non c'è mai un po' di discussione, e poi però alla fine dice il nostro ministro Minniti, il comunista Minniti dice, per esempio però invece i social network sono stati utilissimi riguardo alla diffusione della testata che ha fatto il signor Spada, quello di cui non ha parlato il Papa nei confronti di un giornalista della Rai, ma i social network sono anche quelli che hanno associato Spada a casa Pound, senza se e senza ma, senza esattamente quella casa grigia, quella zona grigia di cui parlava Minniti, e come? Siccome ti fa comodo che Spada venga utilizzato come strumento della destra associato a casa Pound, dato che lo stesso Spada invece aveva detto nel passato di essere anche favorevole al Movimento 5 Stelle, allora in quel caso i social network ti piacciono, nel caso invece dei social network genericamente pensati non ti piacciono. Non va bene Minniti, perché questo è come sempre, come voi politici fate tutte le volte, cioè la coperta vi interessa soltanto quando vi scalda il vostro piedino. Inoltre, vi sembra normale che un ministro della Repubblica italiana dica che lui non usa i social network? A me non sembra normale, perché è uno snobismo tipico di quelli che non capiscono che giusti o sbagliati i social network saranno il futuro, non ci sono cazzi, io critico Facebook mille volte, Twitter altrettante, penso che i social network siano la sentina di ogni schifezza e che spesso vengono propagandate non fake news, banalità politicamente corrette, ma questo non vuol dire che non si debbano usare i social network, anche all'inizio del 1900 le auto andavano a scontrarsi, le auto uccidevano, le auto andavano veloci, ma nessuno si sognava di dire, anzi qualcuno come Minniti si sognava di dire meglio le carrozze. La Germania è come l'Italia, non c'è un governo dal 24 settembre, io dico dal 24 settembre sti fenomeni dei tedeschi non hanno il governo. Io vorrei fare un giorno, quando avrò tempo, una bella considerazione sul fatto che i governi in questa nostra civiltà occidentale postmoderna, digitale, non servono a nulla, possono solo far male, quindi quando i governi non ci sono è meglio, quindi la Germania si è governata dalla Merkel, ma se non ci fosse la Merkel c'è tanto un assetto di potere che la porta avanti, questo vuol dire che sono un'Italia democratico, un po' lo sono, ma la cosa fondamentale è attenzione a dare troppo peso ai governi, perché la vita va avanti anche senza i governi, quello che fanno i governi è poter fare del male e poter danneggiare dei settori, danneggiare delle economie, danneggiare delle nostre libertà. Beh, certo, oggi lo leggo forse sul messaggero la prima pagina, ma non solo, c'è qualche box, questa follia di costringere questi negozi di sigarette elettroniche, di non poter vendere le sigarette elettroniche, a me sembra la risposta a una lobby che è entrata in un piccolo decretino, una piccola norma del decreto fiscale, quindi non ci saranno più gli specializzati, mi sembra di aver capito che possono vendere le sigarette elettroniche dicendo che c'erano i falsi, gli online, tutte queste minchiate qua e che bisognerà venderle soltanto da rivenditori autorizzati, autorizzati da chi? Dal governo. E perché? Perché ci vuole controllare qualche cosa che ci ammazza. Io la trovo una di quelle cose fantastiche, attraverso il grimaldello della nostra salute c'è qualche lobby che è riuscita a fotterne un'altra. Nel giornale dei 5 Stelle, cioè nel fatto oggi, è stupenda la difesa di Travaglio che dopo 4-5 giorni difende l'indifendibile siciliano, candidato nel Movimento 5 Stelle, primo dei non eletti, che è stato arrestato. Cioè riesce a fare una pagina, il suo editoriale, di difesa di questo impresentabile perché lo mette in riferimento agli altri impresentabili, dimenticandosi che uno degli impresentabili, cioè quello di centrodestra, nel giorno stesso in cui viene arrestato quello del Movimento 5 Stelle, quell'impresentabile viene assolto per i motivi per i quali il fatto lo considerava impresentabile. Insomma, in questa specie di gioco di parole di cui vi sto parlando, il giornale del Movimento 5 Stelle va sempre la pena leggerlo perché anticipa Travaglio, quello che il Movimento 5 Stelle dirà nei prossimi giorni. Ultima considerazione la faccio su quella ridicola parabola dei radicali per la quale si sono inventati una lista capeggiata dall'Abonino e mi spiace anche da della vedova che era, mi ricordo, aveva delle ottime idee di politica economica, che si chiamerà Forza Europa, Forza Europa con l'Abonino. Ditemi un po' voi se la gloriosa storia di Pannella deve finire con l'Abonino e con Forza Europa. Vi do un saluto e vi do appuntamento questa sera alle 19 su Radio 105, Matrix 105. Ciao!